Si identificano nell'immigrazione, hanno questa identità che avevano perso, con l'immigrazione la sinistra diventa forte perché vuole accogliere e la destra vuole le spingere, hanno due identità finalmente differenti e serve per quello l'immigrazione questa gente qua. Noi non abbiamo bisogno di entrare in quella di altri malini di idee ormai superate, noi siamo un movimento, siamo cittadini, vorrei che si capisse bene a chi ancora dei dubbi perché il problema è che ci hanno impastato in mezzo agli altri partiti, ci hanno impastato lì, io sono andato a Genova dove sono nato e ci sono stati due o tre ragazzini che hanno gridato prendi la palla, prendi la palla e titoli, titoli, è questo, ci impastano, ci vedevano come politici, c'era l'unico politico presente, se la sono presa un po' con me alcuni, ma capisco questo lato ed è questo il problema di pericolo, che ci prendono come politici, è la stessa cosa con la palla, è la stessa cosa, la chiamate voi politici andate via, noi non siamo politici, noi dobbiamo affermare questa nostra identità, e siamo cittadini che sono le due legislature e poi tornano a fare quello che facevano prima, abbassandoci lo stipendio, ve ne sapete tutte queste tirature qua, bene, se volete fare qualche domanda io rispondo a una, se no... Grazie a tutti.